Imprenditori, professionisti, estranei ed incarichi pubblici e tutti marottesi. Sono loro i 16 candidati della lista Marotta per una nuova città. 8 uomini e 8 donne che affiancheranno nella sfida elettorale del mese di giugno il loro aspirante sindaco. Giancarlo Loccarini, 69 anni, medico, già sindaco di Mondolfo dall'83 all'85 e in precedenza consigliere regionale. Dopo oltre 30 anni quindi Loccarini ci riprova con una squadra di giovani, in gran parte espressione del Comitato Pro Marotta Unita che ha perseguito e raggiunto l'unificazione di Marotta definita la Berlino dell'Adriatico. Adesso invece il loro obiettivo è quello di mettersi in gioco per cambiare il futuro della città puntando sul rilancio del turismo. La lista Marotta per una nuova città che si presenterà alle elezioni il 5 giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale nel nostro comune punta prevalentemente ad avere una nuova concezione del nostro territorio. Soprattutto il nostro punto è quello di dare una identità nuova a questo territorio anche a partire dal nome, inserendo il nome di Marotta per sottolineare quella che è la vocazione turistica balneare di questo territorio. Noi vogliamo costruire una città pluricentrica dove ogni zona abbia una sua caratteristica e una sua vocazione. Per i componenti che sostengono Loccarini a candidato sindaco Marotta è stata ferma troppo a lungo. Servono scogliere merse per la difesa della costa, creare occupazione, fare vivere il centro storico, lavorare sui servizi e sui trasporti, sull'ambiente e diminuire tasse e tributi che ora incidono in modo pesante sui cittadini. Il gruppo apartitico è pronto per la contesa elettorale. Una lista che ha tante competenze, che ha tante capacità, ma soprattutto ha tanto tanto entusiasmo che spero che possano portare questa nuova città che noi vorremmo costruire verso una visione positiva per portare benessere, per portare serenità alle famiglie di tutto il territorio. Grazie!